Per un po' che meditavo di prenderla, alla fine ho acquistato questa gimbal. Nella scatola c'era la gimbal, il telecomando utilissimo, mi permette di fare cose che senza la gimbal non potrei fare. Per esempio una ripresa di una recita scolastica, metto il cavalletto con solo la gimbal e il telefono e comodamente a distanza mi gestisco la ripresa. C'era questo cavalletto, è di plastica però abbastanza robusto e robusta è pure la gimbal. La staffa che tiene il telefono è molto solida, posso giostrare bene la gimbal e non c'è pericolo che si sfili il telefono. La accendo e inizia a fare il suo mestiere. Adesso apro la sua app, ok, è simile a qualsiasi altra macchina fotografica, in più ha delle funzioni che consentono di utilizzare le funzioni della gimbal. Quella che trovo più utile in assoluto è quella di tracking, quindi posso definire un'area e la gimbal, anche se io la muovo, continuerà a tracciare e a tenere in puntamento l'area che ho selezionato. Stessa cosa con il rilevamento dei volti e non si gestisce da solo la scena. L'utilizzo più utile che ne faccio è quello di montare la gimbal su un cavalletto da macchina fotografica. Adesso tra l'altro è chiuso, questo si alza quasi un 1,370. E con il telecomando posso gestire la ripresa. Quindi a distanza, in quelle condizioni tipo le recite scolastiche, posso piazzare il cavalletto di fronte e con il telecomando riuscire a gestire tutta la ripresa. Tra l'altro ha delle funzioni intelligenti. Il tracking dei volti o dell'area selezionata che assicurano veramente una qualità di ripresa stabile e nitida.